Si chiamava Aspen Dake, aveva 17 anni di età e purtroppo si è spenta, è morta. Era una giovane ragazza che ha lottato per la maggior parte della sua esistenza contro la leucemia linfoblastica. Vi ricordo che la leucemia è una neoplasia, è un tumore che colpisce il sangue. In particolare soffriva la ragazza in questione di leucemia linfoblastica acuta. Subendo un trapianto di midolossio, che è anche una immunoterapia, ma alla fine purtroppo non ce l'ha fatta. Attenzione, era riuscita a guarire da questa leucemia. Era finalmente guarita, ripeto di nuovo, ma a farla fuori è stato proprio il Covid-19, il coronavirus. La ragazza viveva nel Messuni negli Stati Uniti, era in una fase di ripresa, secondo i medici aveva superato già la fase più critica. Poteva iniziare ad avere una vita serena, una vita normale. Aspen era tornata addirittura a scuola. Dopo qualche mese di tempo ha sviluppato però una polmonite bilaterale dovuta al coronavirus. Data la sua gran fragilità, le condizioni sono andate a peggiorare. In poco tempo la 17enne è stata portata in ospedale, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto per poterla salvare. I genitori hanno creato una raccolta fondi economici, ovviamente, per sostenere quelle che sono state le spese mediche. La ragazza si è spenta tra le braccia di suo padre, fatta fuori da complicanze derivate dal Covid-19, dal coronavirus. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un cordiale saluto a voi, da Leandro, narratore italiano di YouTube Italia. Aspen dek dek riposi in pace. Amen.